Allora, qui il primo modo è ricomposta dal conduttore e dal soccorritore. Il conduttore si avvicina al pericolante. C'è nel modo di avvicinare il tuffo di salvamento del secondo soccorritore che comunque si avvicinerà a nuoto al pericolante. Intanto il conduttore con una virata metterà la barella in posizione vicina al soccorritore proprio per agevolare il trasporto del pericolante per poi starlo sulla barella stessa. Anche qui il conduttore e anche il soccorritore aiuta a avvicinare il pericolante, il pericolante cosciente. Richiama il clear, ovvero l'ok, il libero al soccorritore per poi ripartire in piena sicurezza. La posizione del soccorritore è particolare proprio perché oltre a garantire il recupero controlla anche le condizioni dell'incorritore.